Non si placa la polemica tra il presidente vicario della regione Abruzzo Giovanni Lolli e il ministro Toninelli. Lolli, innanzitutto, è grato ai prefetti abruzzesi che venerdì scorso nella riunione che si è tenuta all'Aquila hanno dato dimostrazione di come si comporta lo Stato di fronte a un problema complesso e delicato come la sicurezza delle autostrade. Ma rivolgendosi al ministro Toninelli, Lolli ha sottolineato che quando si ha un ruolo di responsabilità bisogna operare con senso di responsabilità, ignorare che ogni affermazione fatta da fonti autorevoli a pesanti e incalcolabili conseguenze testimonia un'inadeguatezza istituzionale disarmante, ha detto Lolli. Contro il ministro Toninelli si è scagliata anche la deputata del PD Stefania Pezzopana e il ministro e il governo giocano sulla pelle degli abruzzesi, con fughe in avanti e smentite continue alternano allarmismo e rassicurazioni con attacchi al gestore, seguiti poi da ringraziamenti mielosi. Nel frattempo, secondo la prima stima fatta da Strada dei Parchi, è calato il traffico. Si è seminata paura e insicurezza, ha detto. Lo stesso è avvenuto con i fondi per la messa in sicurezza della rete autostradale. Prima lo scippo di 200 milioni dei fondi della regione Abruzzo con la complicità dei parlamentari abruzzesi della maggioranza, ha tuonato, poi la retromarcia con emendamenti copiati da quelli presentati dal PD. È arrivata pure, però, la replica del ministero. È del responsabile di sostenere che il ministero delle infrastrutture e dei trasporti si sia comportato con leggerezza sul caso di A24-A25. Forse qualche esponente politico, scrivono abruzzese, preferisce fare campagna elettorale piuttosto che evitare un'altra Genova. Senza un intervento pronto e puntuale del di Castero, su input del ministro Toninelli, non si sarebbero prese quelle misure minime a tutela di chi viaggia. Il ministero, affidato a una nota, la replica alle affermazioni degli esponenti politici del centrosinistra regionale. Misure minime viene ribadito e improrogabili, vista la gravità delle conclusioni contenute nella relazione dell'ufficio ispettivo territoriale. Si è ovviato, scrive il ministero, dopo anni di inerzia. Brevissimo, grazie allo splocco anticipato dei fondi, partiranno tutti i progetti di messa in sicurezza, replicano.